buongiorno una buona giornata 9 dicembre 2021 ancora una volta insieme con news cappuccino brioche l'informazione che parte prima al 6 e mezza puntuali tutti i giorni da lunedì al venerdì torniamo insieme quindi con lo sfoglio dei quotidiani in edicola mediante partendo proprio dalle prime pagine poi l'approfondimento dei vari argomenti insieme a me anche oggi tiziano campigotto diamo il buongiorno a lui che si trova in regia e che curerà infatti la parte tecnica potete sempre interagire lo ricordiamo in quanto è fondamentale parte del nostro programma la possibilità di scrivere e quindi inviare dei commenti mediante un messaggio whatsapp il numero è in sovimpressione 327 94 39 574 notte di maltempo notte con intense copiose nevicate che stanno proseguendo ormai dalla giornata di ieri tante le segnalazioni le immagini che continuano ad arrivare da parte proprio dei nostri telespettatori le persone che ci seguono ma in pianura sulla costa ci vengono segnalate anche abbondanti piogge tanto così che anche ulteriori sono le segnalazioni pure in questa fascia di territorio se volete inviarcene ancora o farci appunto altre ulteriori segnalazioni rispetto al maltempo piogge o neve il numero potete utilizzarlo anche per questo fine partiamo con l'informazione allora in ordine con le prime pagine oggi messaggero veneto che vediamo già in sovimpressione si parte con il dossier legato alle truffe che corrono sul web in internet i reati sono in aumento dai falsi funzionari a finti bonus si moltiplicano gli attacchi anche alle sim card in forte crescita poi i prelievi fraudolenti pure sui conti bancari ai truffattori si legge nella nota bastano pochi minuti per svuotare un conto corrente bancario centro pagina abbiamo appena parlato insomma della tanta copiosa intense nevicate scese da ieri che in molti casi non si sono fermate sui monti in quota sono però comunque 4.000 le persone che sono scese sulle piste nonostante le condizioni meteo avverse sulla spalla di sinistra si parte con la situazione in regione sempre covid vaccinazioni terze dosi salgono a quota 9.000 15 per cento altri 763 casi ma ci sono meno persone ricoverate nelle ultime due settimane sempre più i non vaccinati nelle terapie intensive picco del 32 per cento il rapporto census ecco perché sta crescendo l'irrazionalità oggi cercano in qualche modo di spiegare pure questo nodo andiamo invece sulle spalle di destra ci occupiamo in questo caso di cronache però si parla anche di sanità dicendo appunto che si va verso l'assunzione soprattutto in asuf a udine di 50 nuovi operatori sanitari ma i sindacati tuonano dicendo rimarcando non basta non ne servirebbero almeno 200 nuove assunzioni per far fronte subito all'emergenza che viviamo nei reparti ospedalieri udine ancora dopo 42 anni va in pensione il notaio amodio vediamo oggi anche un'immagine legata qui e invece verzenis lupi che si avvicinano alle case e riportano abbiamo paura dio a giacomarra per decenni è stato il medico nel medio friuli parliamo in questo caso di codroipo andiamo invece a vedere il taglio alto del messaggero veneto ci sono due notizie la prima che ha fatto il giro d'italia se non del mondo egitto zacchi è stato scarcerato grazie italia tornerò presto queste le sue parole manifestazione invece con 400 novax al sacrario di re di puglia ne parleremo e approfondiremo poi oltre al messaggero lo troveremo nel quotidiano vediamo tra poco il piccolo ancora buongiorno 9 dicembre 2021 ora passiamo invece al gazzettino la terza dose spegne l'arancione i primi dati sono ottimi nessun decesso né ricoveri gravi tra chi ha ricevuto il richiamo ovvero 80 sono quelli meno contagiati ieri ancora aumento del contagio il bollettino segna 763 nuovi casi 8 decessi tra cui un uomo anche di 57 anni poi gazzettino riferisce novax al sacrario di re di puglia lo sdegno del mondo politico per quanto avvenuto in un luogo sacro dicono e di massimo rispetto le dimissioni dal lavoro allarme invece tra le donne a lasciare sono soprattutto le neomamme in discesa invece il dato sui licenziamenti il premio parità di genere azienda friulana che si trova prima in italia ed ora spazio invece come di consueto allo sport il calcio vediamo l'immagine calcio dopo l'esonero di gotti avvenuto insomma un paio di giorni fa ciò fi si prepara per quanto riguarda l'agguato al milan andiamo ancora nella spalla di destra per leggere altre notizie l'omaggio si parla dei 125 anni dell'undinese proprio raccolto in un album legato al quotidiano gazzettino e poi torna lo sci primo giorno con pienone sulle piste sapevamo che l'otto dicembre sarebbe stato quel giorno che avrebbe dato la stura il via proprio all'apertura di tutti gli impianti nonostante le copiose abbondanti nevicate e maltempo in certi territori le persone oltre 4.000 si sono riversate sulle piste da sci in alto chiudiamo morto a 95 anni per piera arrigo carnieri al contro il dramma dei cosacchi al centro fondazione pittini nativi digitali promuovono le aziende green della montagna e udine l'università che scopre una dieta contro l'emicrania e sclerosi risultati della ricerca saranno presentati durante un convegno a tema che si terrà nel vicino veneto orientale ovvero a bibione l'incontro ora invece passiamo direttamente al quotidiano il piccolo per chiudere il tris di queste prime pagine legate alla regione piccolo che apre con quarta ondata risale lo smart work in numeri in crescita in particolare a trieste ma anche a gorizia la regione oggi al 4 per cento apre a chi ha il super green pass con la risalita del contagio e ricoveri che ha portato alla regione dal 29 novembre come sappiamo nella colorazione gialla anche il ricorso quindi al lavoro da casa è così di peripasso parallelamente aumentato centropagina l'immagine trieste la prima porta container alla piattaforma logistica e poi a sinistra si riprende un po quello che era lo sdegno e la cronaca di quanto accaduto al sacrario di re di puglia i due luoghi simbolo si dice da re di puglia alla risiera adunate video nei siti più sacri parliamo di oltre 400 persone con una manifestazione non autorizzata che si sono ritrovate proprio al sacrario di re di puglia per protestare contro le vaccinazioni ma in particolare contro il green pass commento quell'oltraggio ai caduti non deve restare impunito quindi non sono mancate le reazioni e sdegno come già citato rispetto a quanto accaduto al sacrario di re di puglia nella giornata di ieri e poi andiamo invece sulla spalla di destra vediamo un po cosa succede in città a trieste si parla del comune che lascia fuori dal piano alienazioni i magazzini green sesam e poi sotto invece vasi antichi comprati all'asta galleria d'arte che finisce sotto inchiesta latitano i turisti mercatino natalizio trainato infatti dai triestini il taglio alto oggi del quotidiano il piccolo riporta queste due notizie la prima ancora legata alla scarcerazione di zaki dopo 22 mesi lui che afferma presto tornerò in italia russia e cina la tela di biden per allineare le democrazie ed ora uno sguardo veloce un paio di minuti qual è l'informazione nazionale oggi principali quotidiani e come decidono di aprire si va con il corriere della sera oggi tutti dedicano l'apertura a patrick vediamo zaki il sonriso avete tenuto la luce accesa su di me l'intervista il ritorno alla libertà pure con l'immagine centro pagina che vi stiamo già mostrando ancora sotto si parla di vaccini vaccini infatti 100 milioni di dosi ma in dettaglia cresce ancora il contagio ieri quasi 18 mila è un record rispetto al mese di aprile il tasso in percentuale che sale al 3,2 per cento poi l'allarme legato alla variante omicron londra vara green pass torna allo smart working pfizer il richiamo protegge questo secondo l'azienda il nuovo governo in germania inizia l'era shoals tre donne nei posti chiave e poi si parla di veneto che è un laboratorio si parla e si intervista il governatore luca zaia la lotta al virus dice come insomma in regione si stia facendo di tutto per cercare di prevenire la pandemia e un'ulteriore così diciamo è in difficoltà andiamo invece con la repubblica ancora abbiamo detto che oggi prime pagine occupate per la gioia di zaki libero a metà ora voglio l'italia legato poi ai poi anche l'immagine è il governo che va a caccia ancora di più vaccini la campagna di immunizzazione che raggiunge le 500 mila dose al giorno vede il traguardo dei 100 milioni di fiale somministrate ma le scorte si assottigliano palazzo chigi che va in pressing sulle case farmaceutiche simulazione di voto vince il campo largo diletta e poi ancora altre notizie andiamo invece sotto giuramento laico per scholtz inizia la nuova era tedesca chiudiamo con la stampa che apre allo stesso modo a casa con zaki titola quell'abbraccio delle sue donne legato al racconto poi invece il colloquio salvato dai libri dalla mia italia il compagno di cella insieme in prigione temendo la morte a poi si parla invece del premier draghi una linea dura con i sindacati finance and time e anche allarme dei mercati se l'ex governatore sale al quirinale il paese è a rischio queste allora le principali titoli che abbiamo visto insieme oggi legato alle prime pagine prima dei quotidiani regionali poi quelli nazionali tra un po invece segue l'approfondimento non prima però di aver visto anche i vostri messaggi ricordiamo il numero 327 94 39 574 ne vediamo già tanti che sono arrivati qui davanti sullo schermo sul nostro smartphone e allora prendiamoci una veloce pausa un caffè per chi ancora non lo ha preso vediamo questa opportunità di fermarci un momentino poi prepariamo tutto perché ripartiamo per quanto riguarda sia la notte di maltempo abbiamo tante segnalazioni da parte vostra rispetto alle abbondanti nevicate che continua a neve scendere proprio dalla giornata di ieri ininterrottamente e anche le piogge abbondanti pure su pianura e costa ulteriori segnalazioni le riporteremo tra pochi minuti piccola pausa allora buongiorno vedo già tante persone che ci scrivono buongiorno mariana ciao carissima abbiamo jessica che ci saluta jessica nicodemo aspettate che abbasso un po il volume multimedia ecco qua e allora queste sono le persone che sono collegate con noi sui social quindi facebook youtube streaming web dove non mancano mai fedelissimi poi abbiamo i whatsapp come florence buongiorno roberto da maniago buon giovedì ciao carissima grazie a te lorenzo buongiorno roberto buongiorno a te le friuli a pordenone piove da ieri pomeriggio non a cena smettere credo che la manifestazione che si è svolta al sacro di re di puglia sia stata una grandissima mancanza di rispetto ai deceduti morti per la patria altri messaggi buon lavoro buona giornata carmelo da corno di rosazzo ci scrive per la prima volta carmelo tra un po lo saluto in tv perché quando le persone sono nuove mi piace avere questa abitudine poi di salutarli in diretta anche appunto sul digitale allora adesso prepariamo veloci prima di terminare la pubblicità di farci trovare impreparati chiudiamo il pdf con le prime pagine che già abbiamo analizzato insieme invece andiamo a predisporre il messaggero dal quale ripartiremmo con la massima attenzione rispetto alle truffe che viaggiano online allora tiziano cosa mi dici vediamo qua cosa dice tiziano ho dato un'occhiata forse era stato toccato va bene grazie tiziano per questa cosa e dicevo appunto parliamo tra un po di truffe e quindi torniamo con questo argomento che anche avvicinandosi le feste di natale e l'aumento spropositato degli acquisti online i malviventi se ne approfittano vedremo un po quali sono le modalità e soprattutto dove stare molto attenti quando navighiamo nel web vedo ancora persone che mi salutano per quanto riguarda whatsapp che continuano ad arrivare altri invece su messenger e poi quelli legati invece anche a facebook e tutti i vari sostenitori coloro che ci donano un po di stelle ora ripartiremo in tv mancano credo pochi secondi faccio un saluto e un caro abbraccio posso dirlo veramente con forza ad alessandra che mi dice mi trovo in ospedale ma ti seguo in queste mattine con affetto grazie per l'informazione la compagnia che ci fate allora alessandra non so cosa succede per quale motivo ti trovi in ospedale né in quale ospedale ci stai seguendo però la mia piena solidarietà affetto vicinanza e abbraccio perché ti possa riprendere presto spero mi auguro nulla di grave però ci fa piacere sei collegata in streaming sono quasi sicuro che sei sul web oppure sul digitale mi togli questa curiosità dove dove ci stai guardando in ospedale mediante la tv oppure in streaming fammi sapere o in bocca al lupo per tutto ovviamente se ci puoi iscrivere e se hai la possibilità e poi saluto invece ancora davide che è collegato con noi invece da pordenone dice roberto buongiorno ancora tanta tanta pioggia ma sul piancavallo record per ora di neve ancora da inizio anno non se n'era vista così tanta bello messaggino anche legato alle abbondanti nevicate ora torniamo in tv ci siamo presi la bella pausa e riparte in la nostra trasmissione news e cappuccino conosce riparte ancora buongiorno siamo all'edizione del 9 dicembre 2021 rassegna stampa sfoglio digitale dei quotidiani in edicola ancora buongiorno con i tanti tanti messaggi che continuano ad arrivare e molte sono proprio segnalazioni anche legate al maltempo qualcuno ci fa sapere che ancora non ha smesso di piovere dalla giornata di ieri eccolo qui come lorenzo che ci si vede a pordenone buongiorno roberto buongiorno tele friuli così apre il suo messaggio a pordenone piove da ieri pomeriggio non accenna smettere credo che la manifestazione che si è svolta il sacrario di re di puglia sia stata una grandissima mancanza di rispetto ai morti per la patria allora ringraziamo lui per il messaggio sia per la segnalazione delle piogge che ancora non si sono fermate almeno a pordenone e poi anche per il commento rispetto a quello che è successo a re di puglia di cui parleremo tra pochissimo appena insomma andremo anche nel quotidiano il piccolo ma iniziamo invece con messaggero veneto che oggi dedica due pagine in apertura a un focus su un argomento che avevamo già affrontato assieme in queste giornate ovvero le truffe online si avvicina il natale gli acquisti sono sempre di più digitali in internet ed è proprio qui che viaggiano le truffe falsi funzionari ma poi si parla anche di finti bonus raggiri che sono in aumento risultano in crescita esponenziale anche prelievi fraudolenti su conti correnti bancari udine la ventiduesima in italia per reati informatici pordenone diciannovesimo trieste quinta ma gorizia è prima e questo un po diciamo l'allarme poi nel dettaglio viene riportato all'interno dell'articolo anche come avvengono queste truffe come mettersi in guardia rispetto anche gli acquisti dubbi reati informatici denunciati nel 2020 nelle province appunto della nostra regione vediamo anche quelli che sono i dati oggi riportati con questa classifica dove vediamo proprio che gorizia si trova al primo posto ora andiamo avanti invece con altre informazioni nella pagina accanto abbiamo parlato oggi in apertura e non solo ma anche grazie ai vostri messaggi whatsapp che ci state segnalando le nevicate e anche il maltempo in atto con piogge incessanti maltempo che però dice scrive il giornale non ha fermato il mondo dello sci e la ripartenza della stagione invernale sulle piste si sono riversate oltre 4.000 si legge nel titolo presenze superiori all'attese nella giornata d'avvio della stagione in tutti i poli molto bene lo zoncolan sotto le aspettative un po sappada incassati 100.000 euro poi abbiamo l'assessore bini che riferisce ci siamo fatti trovare pronti per l'occasione la risposta della gente è stata davvero molto soddisfacente abbiamo un po tutti i numeri legati alla ripartenza allo sci le presenze ad esempio di ieri 8 dicembre in montagna i primi ingressi 1.500 erano sullo zoncolan 1.000 persone a tervisio e poi ancora 1.200 a piancavallo 158 a sappada 344 se la neve all'incasso e pare come già accennato a circa 100.000 euro in questa immagine che riassume un po quella che è stata la prima giornata legata anche al mondo dello sci e poi ci sono integrazione tutti quelli che sono anche gli eventi correlati alla giornata di ieri ora passiamo invece sempre con messaggero veneto alle vaccinazioni cosa succede scrivono che 9.000 sono le terze dosi la copertura è al 15% scendono ricoveri nonostante ieri segnalati col bollettino 763 nuovi casi regione sempre in linea con quello che il target obiettivo fissato da figliuolo secondo giorno di lieve calo dei pazienti proprio negli ospedali queste sono le prime indicazioni che arrivano rispetto pure a percentuali sopra vediamo anche come ci stiamo trovando come ci posizioniamo con questo 83,4% di chi ha ricevuto la prima dose in friuli venezia giulia 83,6 il ciclo completo quello con il colore viola per intenderci la percentuale sull'intera popolazione è 78 e mezzo con una dose 75,9% con entrambi le dosi quindi possiamo dire ciclo completo anche in questo caso poi abbiamo invece le parole dell'assessore roberti che qui si legge apre allo smart working dei dipendenti regionali solo per chi ha il pass il 95 per cento degli impiegati è ritornato a lavorare in sede da novembre non deve essere un modo per saltare tamponi o vaccinazione questo è il suo monito la sua massima attenzione i vaccinazioni se diamo uno sguardo pure anche all'italia salgono a quota 100 milioni ma i contagi nella media nazionale continuano a crescere in italia volano le dosi somministrate negli ultimi 12 mesi novax più 32 per cento ricoveri in terapia intensiva questo è il dato che è arrivato dall'istituto superiore di sanità e dalle aziende sanitarie dove vanno a rimarcare come ci siano state una diminuzione le persone vaccinate in terapia intensiva sono scese del 33 per cento sono aumentate si legge sempre fonti dell'istituto superiore di sanità più 32 per cento rispetto a coloro che sono definiti diciamo in gergo novax o loro coloro che non hanno che hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione questo riguardo alla percentuale d'occupazione di uno e degli altri delle terapie intensive la protesta con 400 no pass al sacrario di re di puglia la vediamo tra pochissimo tra meno di due minuti proprio nel quotidiano il piccolo analizzando l'isontino zacchi l'abbiamo appreso nelle principali pagine oggi prime pagine nazionali aspettatemi in italia dice lui e poi l'ipotesi di draghi al colle spaventa gli investitori temiamo l'instabilità saltiamo però gli argomenti nazionali e torniamo invece su quelli legati proprio alla nostra regione tra un po andremo a parlare di azienda sanitaria in particolare udine provincia dove ci sono 50 nuovi operatori sanitari in assunzione ma sindacati che dicono denunciano non bastano ne servirebbero 200 quello sarà l'argomento col quale riprenderemo dopo una pausa ora subito nel quotidiano il piccolo salutando le persone collegate anche da trieste dalla provincia di gorizia pura smart working cresce con la quarta ondata in enti pubblici e ancora nelle imprese in se comune di trieste hanno fatto segnare l'incidenza più alta dei dipendenti a casa nel privato alianz generali che toccano il 90 per cento tra l'industria spicca pure vazzila accanto abbiamo insomma tutto il focus l'approfondimento vediamo pure i sindaci per quanto riguarda ziberna annamaria cisint per monfalcone regionali in presenza roberti apre al lavoro agile ma solo per i vaccinati come avevamo già visto velocemente anche nel messaggero veneto siamo ora invece alla cronaca la notizia ieri fa il giro d'italia cosa succede viene inscenata una protesta non autorizzata così ha sottolineato rimarcato questore prefetto con 400 no passa il sacrario dire di puglia con noi le forze dell'ordine hanno dichiarato un raduno non preavvisato ieri pomeriggio è avvenuto al cimitero militare partito tramite facebook il questore ancora sottolinea manifestazione che noi non abbiamo autorizzato abbiamo pure l'ipotesi di reato per chi ha partecipato di vilipendio infatti riportano ancora le forze dell'ordine che mediante il sistema di cattura delle immagini video sorveglianza cercheranno di identificare le persone che hanno presenziato a questa manifestazione per essere poi sanzionate e anche appunto sulle quali grava questa ipotesi di reato di vilipendio così come abbiamo letto vediamo pure un'immagine legato al sacrario cimitero di re di puglia con le persone presenti per protestare contro il pass così come si legge poi a margine tutte le note partendo proprio da quelle che il sottosegretario annuncia saranno le sanzioni che arriveranno se c'erano militari saranno sanzionati queste le dichiarazioni dure di giorgio mulè sottosegretario alla difesa come riportato anche dal tgr fvg ma ancora abbiamo ugo rossi che ha incentivato le persone a partecipare e a ritrovarsi proprio sulle scalinate sempre del sacrario di re di puglia e poi ancora debora seracchiani che dice un gesto inaccettabile il commento sotto quell'oltraggio ai caduti che non deve restare impunito sacrario di re di puglia che custodisce la salma di un'unica donna e ancora si va insomma con il commento rispetto a quanto è successo con questa tra virgolette adunata non autorizzata della quale abbiamo un po sintetizzato quanto oggi va a riportare pure il quotidiano il piccolo se ne continua a parlare di sdegno e anche altrazioni non condivise ovvero il filmato delirante che è stato rimosso poi da facebook dopo dieci giorni lo sdegno delle istituzioni della politica della comunità israelitica sfreggio alla memoria nel video contro massimiliano fedriga davanti alla risiera novax come gli ebrei se ne continua a parlare pure di questo caso accanto a quello che è successo ieri al sacrario di re di puglia andiamo invece ancora in regione per quanto riguarda pandemia la curva dei contagi continua a crescere l'abbiamo visto ieri con questo trend 763 nuovi casi negli ultimi sette giorni aumentati del 12,7 per cento ma vaccini e terze dosi che contengono i ricoveri abbiamo visto poco fa come negli ospedali siano scesi del 33 per cento le persone ricoverate che hanno la vaccinazione salgono del più 33 coloro che invece non sono vaccinati andiamo invece a trieste a completare l'informazione a vedere ancora un paio di notizie proprio del cuore della città si parla come abbiamo appreso anche nelle prime pagine oggi del piccolo dei magazzini green season fuori dal piano alienazioni nel documento 2022 2024 non rientra nei due stabili destinati alla regione vediamo pure un'immagine dei due magazzini proprio nell'area di portovecchio visti da piazza duca degli abruzzi accanto si parla invece ancora di cosa succede in città legato pure agli acquisti shopping ed eventi senza turisti tra negozi e casette sono i triestini a trainare gli acquisti buona l'affluenza al si legge in centro nonostante i pochi arrivi da fuori città con gli alberghi occupati il 40 per cento esercenti e commercianti soddisfatti riportano abbiamo lavorato oggi vengono a corredo così ad integrazione pubblicate alcune foto di quello che è stato lo shopping natalizio proprio dove non sono mancati tra l'altro controlli del green pass per quanto riguarda quanto riferito proprio dalle forze dell'orne poi riportato bene nel dettaglio all'interno dell'articolo abbiamo invece l'attacco parliamo in questo caso nella pagina seguente della prima nave porta container alla piattaforma logistica servizio di collegamento con turchia inaugurato ancora in estate che farà però tappa trieste una volta alla settimana anche il molo settimo si era fatto avanti pagina vicino il fascicolo aperto invece dalla procura vasi antichi comprati all'asta galleria d'arte che finisce sotto indagine inquisiti per recettazione titolari della ixion di via capitelli sono sei reperti di proprietà statale chiudiamo invece con un'ultima cosa vediamola qui insomma legata anche a mugia le pietre d'inciampo in città la posa partirà all'inizio del 2022 in memoria dei quattro cittadini deportati verranno collocate nei punti individuati nell'agosto 2020 dall'allora giunta marzi in via dante di gheri anche via d'annunzio del conte riferisce il ricordo è assolutamente fondamentale con questo allora siamo già arrivati alla prima mezz'ora di trasmissione grazie per i tanti messaggi che continuano ad arrivare buongiorno a tutti daniela da sedegliano buongiorno daniela che ci scrive alle 6 59 in questo preciso momento e a tutti gli altri che stanno entrando in diretta con noi anche esprimendo quelle che sono le loro considerazioni rispetto alle notizie che stiamo insieme sfogliando insieme proprio nei giornali ora tiziano è pronto in regia piccola pausa giro di boa tra un po ripartiamo con la seconda parte di news cappuccino e brioche allora buongiorno ancora a tutti prepariamoci per quanto riguarda invece un attimino la chiusura del quotidiano del piccolo con la provincia di gorizia dal quale ho visto tanti messaggi vedo tanti da grado che mi hanno segnalato l'acqua alta di questa notte tra un po vado a leggere anche i messaggi legati al maltempo persone che continuano a riferirmi che non smette di piovere che ha piovuto tutta la notte è così fatemi sapere mi confermate che in certi posti ha piovuto veramente da ieri non si è fermato un attimo fatemi sapere tra un po appunto ripartiamo anche con gorizia così ci facciamo trovare pronti per la ripartenza eccolo lì perfetto anche così chiudiamo il piccolo e poi andiamo invece subito nel gazzettino proprio tra poco saluto invece altre persone che mi hanno scritto su messenger oltre a il solito diciamo quelli che saluto tutti i giorni ce ne sono nuove come invece succede per quanto riguarda marianna che mi saluta da grado appunto appena citato insomma anche le zone dell'isontino dove tanti sono collegati sia sul web sia in televisione e anche la marianna mi segnala buongiorno roberto pioggia ancora non si è fermata questa notte acqua alta ma non ci sono state almeno pare criticità grazie tra un po andremo a confermare anche questi messaggi che continuano ad arrivarci poi molti che ci scrivono dalla montagna come ad esempio il caso di francesco da sappada dice buongiorno questa nevicata intensa non ci voleva siamo bloccati in questo momento la record della nevicata da inizio anno buongiorno e grazie allora andremo a verificare anche questo se veramente in effetti è scesa così tanta neve rispetto ai mesi dello scorso inverno quelli che hanno terminato che hanno iniziato scusatemi questo 2021 poi andremo a verificare tutte queste cose andremo a fare un bell'articolo per riassumere cosa è successo legato anche al maltempo ci sono tanti messaggi poi legato a quello che abbiamo riferito che abbiamo visto no sia nel messaggero che nel piccolo rispetto alla dunata tra virgolette questa manifestazione non autorizzata re di puglia anche qua ci dividiamo qualcuno dice non è stato fatto nulla di male per quale motivo un raduno deve essere autorizzato qualcuno chiede la legge lo prevede almeno così come abbiamo preso questa mattina quando lo stesso questore ha riferito e confermato che non era stata quindi autorizzata ma ora non vogliamo parlare solo di questo poi ci sono tanti altri messaggi invece oltre a quelli del maltempo quelli invece legati allo sci abbiamo letto questa mattina tutti assieme che nonostante le nevicate anche intense registrate ieri lo sci non si è fermato sono state migliaia oltre 4.000 gli ingressi così registrati proprio nei vari poli sciistici che giornata 8 dicembre quella di ieri è stato un po il via dove tutti hanno finalmente aperto grazie anche per questo quindi come ci segnala in questo caso luca che dice ieri ero presente a sappada lì poche le persone ma in altri poli è andata meglio grazie luca per il tuo feedback ora tiziano mi dice che torniamo invece in tv sul digitale terrestre canale 11 riparte la nostra trasmissione rassegna stampa tutti i giorni assieme ancora buongiorno a chi si è collegato negli ultimi minuti o secondi noi siamo insieme già da 33 minuti circa per quanto concerne il news cappuccino brosce l'informazione che portiamo noi mentre i nostri telespettatori voi fate colazione e tanti altri si aggiungono per quanto riguarda invece possibilità di scrivere interagire mediante i messaggi molti oggi legati anche alle piogge che non si sono fermati a dire e a leggere proprio alcuni messaggi dalla giornata di ieri e nevicate copiosi intense che ancora continuate sia con qualche immagine sia con qualche annuncio così a riportarci dobbiamo un attimo prima di passare però e poi leggere anche i vari commenti completare in quotidiano il piccolo siamo nella provincia di gorizia ancora un paio di minuti finiti nel cassetto 4,8 milioni di interventi il no all'assestamento di bilancio ha penalizzato tutti i settori obizi cercheremo di salvare il welfare e i fondi anche per l'anno 2025 si legge poi accanto ai futuri architetti è stato affidato il compito di ripensare il confine vista del 2025 da casa rossa a salcano aperta la mostra dei lavori degli universitari il docente fraziano dice iscritti raddoppiati siamo un unicum in italia vediamo un'immagine pure della inaugurazione della mostra degli elaborati proprio dei futuri architetti abbiamo il deportato goriziano che divide piacenza enrico richetti era un ebreo iscritto al partito fascista polemica per la pietra d'inciampo a lui dedicata proprio dal comune la famiglia suo nipote stato rabbino capo a trieste poi ancora faretti in corso italia luminarie e albero accese le luci ieri in città proprio a gorizia mentre invece a monfalcone oggi il quotidiano riporta questa notizia legata all'opportunità di lavoro per il monfalconese centro di ricerca di altra tecnologia il comune dialoga con mangiarotti l'obiettivo è sostenere la società della creazione di un distretto per lo studio proprio della propulsione nucleare la pagina accanto ci parla invece del via alle iniziative e natalizie in centro tentazione monfalconese sul carlin bisiac nessuna conferma ufficiale ma si potrebbe si starebbe trattando per portare questa pista di ghiaccio la tradizionale kermesse ronchese in municipio intanto allestita pure una mostra di presepi fatti dagli artisti locali a turiacco si parla nel consiglio comunale di ben nove delibere che sono state approvate all'unanimità dalla sinistra alla lega tutti d'accordo sindaco bullian mai successo da quando mi occupo dice della politica locale a gradisca invece con la cronaca lo straniero suicida il cpr difficile la restituzione della salma polizia e garante dei detenuti ora cercano i familiari del 41enne tunisino che non ha lasciato alcun tipo di contatto fiumicello villa vicentina si parla ancora di giada la ragazza deceduta a soli 14 anni per un malore improvviso dalla ballavolo pieris per ricordare la stessa giada parte ancora questa raccolta di denaro una nuova iniziativa in memoria della giovane la società si stringe intorno alla famiglia poi ricordiamo ancora una volta che i funerali saranno celebrati proprio nella giornata di sabato meteo gradesi alle prese con il rebus acqua alta lo hanno segnalato anche i nostri telespettatori legato a quanto è accaduto questa notte ma ci stanno segnalando che non sono state rilevate particolari criticità nonostante il picco comunque sia stato alto dopo l'ore una della notte ieri protezione civile che ha sistemato cartelli di avviso rinviate manifestazioni tranne per la goletta colombo e poi invece marano una barca abbandonata crea danni al porto il comune però si dice già all'opera ed ora ancora buongiorno alle persone collegate con noi proseguiamo rassegna invece cambiando giornale passiamo al gazzettino con notizie appunto di ampio respiro legate alla regione fvg si parla subito di terza dose questo super scudo zero morti e malati gravi booster che abbatte anche la circolazione virale tra gli ottantenni licidenza e bassa l'oncologo tirelli riporta ho misurato i miei anticorpi ora sono 250 volte più numerosi insomma l'efficacia della terza dose si fa sentire la si vede e la si continua a studiare pure in regione oggi un focus riportato proprio nel gazzettino con l'infezione ma ancora in corsia e le varie testimonianze abbiamo poi il monitoraggio riporta la nota proseguirà ma i risultati sono già molto incoraggianti parliamo della dose booster l'allarme la fuga dalla quarantena il tracciamento diventa il nemico dipartimenti di prevenzione sono sempre più in difficoltà quando vanno a chiamare le persone positive chiedendo con chi sono stato in contatto e quindi cercando un pochino di rintracciare le persone eventualmente da isolare loro non rispondono si defilano e tanti insomma cercano così di allontanarsi da queste domande dipartimenti lamentano la criticità se che i cittadini si rifiutano di elencare i contatti stretti per mettere in difficoltà le persone che hanno frequentato negli ultimi giorni poi si parla invece dello scenario cala l'indice dei ricoveri il friuli vede allontanarsi la temuta zona arancione l'indicatore ospedaliero quota 083 netta discesa ieri però molti casi di contagio 763 positivi 8 decessi tra cui un 50 settembre di corde nonse e rimangono 300 i pazienti ricoverati nei posti letto ordinari terapia intensiva scendono e arrivano a 27 posti quindi occupati abbiamo una dieta contro emicrania e sclerosi che verrà presentati invece a bibione e a cura dell'università di udine che va a testare questa terapia risultati della ricerca saranno quindi presentati sabato a un convegno in programma a bibione nel vicino veneto orientale provincia di venezia l'approccio nutrizionale è stato avviato a gennaio i suoi successi su 35 pazienti riportano sono davvero molto incoraggianti andiamo oltre per parlare invece dello sci l'abbiamo visto anche nel messaggero è un po l'argomento del giorno maltempo abbondanti nevicati che continuate a segnalarci anche piogge in pianura ma sono stati tanti le persone che hanno deciso comunque di inaugurare la stagione dello sci oltre 4.000 quanto oggi riporta gazzettino primo giorno tutti gli impianti aperti vince però il polo dello zoncolan che è quello che diciamo ha fatto registrare il maggior afflusso di persone green pass controlli dalla mattinata e promoturismo dice c'è molta e tanta voglia di ripartire oltre 4.000 ingressi 32 passaggi nel primo vero giorno d'apertura delle piste da sci in fvg sintomo dell'entusiasmo e dell'attesa che c'era per la ripartenza del mondo della neve maltempo quindi che non fermato in questo caso gli appassionati della montagna e dello sci meno licenziati abbiamo un boom di dimissioni le dimissioni però il dato ci fa sapere sono legate molto anche alle donne dato dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro a lasciare il posto sono soprattutto neomamme lavoratrici costruzioni e manifattura sono settori in cui il fenomeno incide molto carlos corvino riporta è in parte legato pure al blocco dei licenziamenti con questo abbiamo chiuso anche il gazzettino legato alle cronache ora invece andiamo nella città di udine ne parliamo solo un attimo legato alla questione sanità con la novità che arriva dall'azienda asuv e assunzione di nuovo personale poi invece una pausa e proseguiremo con tutta la provincia udinese in città dice le report i positivi sono 301 in quarantena 274 questo legato al bollettino sempre della città udinese poi sotto però come ho accennato si parla dell'ospedale per far fronte all'emergenza che stiamo vivendo ma soprattutto al sotto organico legato ad operatori sanitari asuv annuncia l'assunzione di otti 50 operatori sindacati che però rimarcano ne servirebbero almeno 200 l'asuv pronte a reclutare queste figure tramite un nuovo concorso la guille procedure che sono in ritardo i nuovi arrivi bene ma saranno insufficienti questa l'immagine che riporta la tabella 200 assunzioni richieste proprio dai sindacati ancora in via spalato in carcere ci sono 18 detenuti che sono rimasti contagiati nella pagina invece vicino completando il cuore di udine si a luoghi per le persone no a nuovi posti per le auto marchio il despazio udine critica la delibera di giunta sui parcheggi in periferia decisione che catapulta la città 30 anni indietro mentre gli altri vanno avanti queste sono le sue dure parole la denuncia a sinistra vediamo allora l'immagine l'ara che è stata individuata dalla giunta per un nuovo parcheggio a godia a destra invece quello legato allo spazio sul quale ricavare nuovi pasti auto in via baldasseria un altro poi che sarebbe realizzato sarà realizzato sempre a bei varse e allora siamo arrivati all'ultima veloce piccola pausa per prenderci un caffè per chi non l'ha fatto e si è sintonizzato tardi ricordando che potete ancora scrivere interagire il numero 327 94 39 574 andiamo e tra un po chiuderemo allora con provincia di udine partendo dalla montagna medio friuli bassa frilana e poi anche per spostarci un po sulla destra tagliamento vedere le cronache principali notizie di porrenone e l'intera provincia a tra poco buongiorno michela sei arrivata aspetta che sblocco l'app di whatsapp un momentino mentre le persone che ci seguono in tv prendono un attimo di pausa noi ne approfittiamo per respirare un momentino per posizionarci quindi anche su quelle che sono poi le notizie con le quali ripartiremo partendo infatti dalla montagna da verzenis ovaro ed altre eccolo ripartiremo infatti da sutrio con la caduta di questo sci alpinista che è stato soccorso da due pompieri allora vedevo appunto persone che si aggiungono buongiorno cara michela buongiorno roberto nevica ovunque tranne che a ronchi dei legionari buongiorno michela ovunque diciamo che in quota nevica insomma nelle prime centinaia di metri già ci stanno segnalando ancora da ieri quindi sono praticamente 12 ore che continua a scendere questa neve e poi invece in altre zone come a ronchi e poi zone di pianura e ancora bassa e costa invece che abbiamo piogge anche abbondanti registrate durante il corso della notte poi abbiamo avuto un po' l'allerta acqua alta soprattutto a grado dove il picco era atteso poco dopo luna ancora michela grazie per il messaggio e buongiorno a te allora ricordiamo che siamo in questo momento in diretta in tv dove il segnale viene parallelamente distribuito sul canale 11 del digitale abbiamo qualche piccolo veloce spot pubblicitario mentre gli altri rimangono con noi così per continuare a leggere qualche messaggio e ancora anche esprimere le considerazioni rispetto agli argomenti di oggi avete visto che oggi abbiamo parlato molto della liberazione di patrick di zaki questo un po' tutte le prime pagine lo hanno riportato abbiamo visto il maltempo tanta neve pioggia ma che non ha fermato la stagione dello sci 8 dicembre che appunto ha dato il via alla stagione come già abbiamo parlato visto nella prima mezz'ora oltre 4 mila gli ingressi nei vari poli della regione questo è anche un dato confortante se dobbiamo parlare anche di economia invernale di stagione di chi ci lavora e soprattutto in vista del fatto che l'altramno eravamo fermi se vi ricordate poi con tanti tanti disastri legati sempre al settore economico oltre a questo abbiamo visto anche per quanto riguarda quello che è successo a re di puglia tanti messaggi che sono arrivati ora torniamo in tv e torniamo in diretta allora canale 11 un ultimo spazio di meno di 15 minuti che ci consentirà ora con la rassegna stampa di andare a completare la nostra informazione a 360 gradi come facciamo tutti i giorni ben sintonizzati chi si è collegato solo negli ultimi minuti andiamo a chiudere con le notizie principali dei vari comuni partendo dalla montagna grazie al messaggero vento come vediamo già in serve impressione passando per il medio friuli bassa friulana poi chiudere invece con tutta la destra tagliamento è il pordenonese andiamo allora direttamente con la notizia legata alla cronaca sutro cade si ferisce sul monte tamai è stato soccorso uno sci alpinista grazie proprio due vigili del fuoco liberi dal servizio che hanno assistito proprio a questa rovinosa caduta dell'uomo l'hanno subito soccorso e poi allertando anche il 112 che ha inviato sul posto l'elisoccorso appunto l'elicottero della regione sanitario che li ha tratto in salvo si parla poi invece invece a verzenis di razzie dei lupi vicino alle abitazioni è stato anche sbranato un capriolo al terzo in due settimane a villa di verzenis il sindaco ricorda i residenti hanno paura rispetto a quanto sta succedendo ad ovaro lo traffico sulla regionale 355 il comune punta alla zona 30 a gemona delle friuli invece si parla della raccolta differenziata che sale all'ottanta per cento ci sono pure sconti alle famiglie che si trovano in difficoltà durante gli ultimi due anni è aumentata la produzione di carta vetro con i risparmi sui costi il comune finanzia ora degli sgravi proprio dedicati agli stessi utenti a colorido di montalbano appartamenti con parcheggio il posto del vecchio essicatoio l'azienda che ha comprato l'area ha previsto anche investimenti per oltre 5 milioni di euro a treicesimo riparte il commercio sono infatti nove si legge le nuove attività che sfidano la crisi da novembre le aperture si continuano quindi così a susseguire nel centro e l'assessore iannis che dice sono quasi 200 però le imprese del settore risveglio quindi commerciale che è partito già novembre dall'ora tagli della del nastro che si sussegue un attricesimo con un ritmo davvero incalzante a coseano abbiamo l'accensione dell'albero purtroppo annullata causa pioggia si recupererà però nella giornata di sabato sempre condizioni meteo permettendo cividale del friuli la città ducale è stato ripulito l'esterno della piscina l'ipotesi è quella di una riapertura nel mese di gennaio 2022 rimossa intanto quindi la vegetazione attorno a tutto l'impianto che ormai fermo da un paio d'anni l'assessore ruolo dice il rimborso agli abbonati compete al precedente gestore ecco qua vediamo anche un'immagine di integrazione legato è proprio a questo intervento all'esterno della piscina comunale di cividale dove è stato insomma è ripulito anche tolta tutta la vegetazione che la circondava abbiamo poi un riconoscimento nazionale Elsa paladina della natura sul torre tra gli otto ambientalisti dell'anno la 26 n studentessa di primulacco è stata premiata al festival della virtù civica di casale monferrato vediamo nelle due foto a sinistra e Elsa punto merlino 26 n universitaria di primulacco di povoletto e poi a destra invece abbiamo anche gli altri ambientalisti che sempre hanno ricevuto il premio si prosegue però ora cambiando pagina legato al lutto siamo nel medio friuli codroipo l'addio a giancomar il miedi di codroipo si legge insieme conosciuto stimato un medico di famiglia per decenni l'uomo aveva 94 anni i funerali si terranno proprio domani all'ora 15 nella chiesa ancipitreale vediamo due immagini uno il dottore appunto mario che aveva 94 anni l'immagine a destra insieme alla compagna moglie mario cguera dalla quale avevano avuto quattro figli in breve sempre codroipo tre settimane di eventi per aspettare natale tra stand spettacoli e a primaria con la cooperativa di consumo che festeggia cent'anni della sua attività andiamo a chiudere con la bassa friulana partendo da san giorgio di nogaro perché si raddoppia l'attività dal lab di villadora due giorni per le vaccinazioni oltre al giovedì le dosi saranno infatti iniettate pure nella giornata del venerdì al lavoro ci saranno 10 medici gli utenti potranno arrivare quindi da tutta la bassa friulana non solo dal comune di san giorgio vediamo due foto relative all'interno del lab e poi in alto qui ci sono medici e personali proprio con il sindaco anche primo cittadino del frate sempre di san giorgio l'abbiamo ricordato poco fa analizzando pure lisontino ma lo ricordiamo vista l'importanza della notizia villa vicentina siamo nel comune di fiumicello è stata avviata una raccolta fondi per ricordare la cordicenne già da deceduta per un malore la nuova iniziativa sempre in memoria della ragazza morta appunto a causa del malore la pallavolo pieri si stringe intorno alla famiglia sabato ci sarà poi l'ultimo saluto un'altra iniziativa a favore di già da furlanut 14 anni di villa vicentina asd pallavolo pieri esprimendo la sua vicinanza alla famiglia della giovane ha pensato di aprire un conto alla cassa rurale fvg e attraverso post pubblicato anche sulla loro pagina social della società ha spiegato che chi al piacere può fare questa donazione effettuando il versamento sul conto intestato al sd pallavolo pieris l'abbiamo ricordato insomma anche vista l'importanza per chi volesse far parte di questo gesto solidale cervignano del friuli uniti contro la sla sono stati donati 1200 euro con progetto futuro mentre a marano abbiamo una barca abbandonata che crea danni al porto ci pensa il comune a metterla in sicurezza ci spostiamo ora invece nella destra tagliamento grazie al gazzettino passiamo andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa invece legato anche alla città di pordenone la stessa provincia salutando e danno il buongiorno a quanti ci stanno seguendo da quel preciso territorio ma poi ci sono anche molti che ci stanno anche scrivendo sempre vediamo la prima pagina eccola qui pordenone terza dose spegne l'arancione primi dati buoni nessun decesso né ricoveri tra chi ha già ottenuto il richiamo ovvero 80 sono quelli meno contagiati abbiamo però lo stop dal primo gennaio in campo agli ambulatori si parla molto di guardia medica in centro pagina in montagna si continua a trattare lo stop alle guardie mediche dal primo gennaio prossimo infatti si dovrebbero fermare in valcellina val d'arzi ne ancora potrebbe essere scongiurato se ne continuo quindi oggi a discutere poi abbiamo case ater paura per vandalismi situazione sempre più grave in alcune residenze popolari c'è pure lo spaccio di sostanze stupefacenti pordenone un cacciatore violento con la moglie via il fucile andiamo allora all'interno del giornale le prime due pagine le abbiamo già analizzate vedendo poco fa proprio il gazzettino della regione poco dopo le set andiamo invece a analizzare approfondire questa notizia quella legata infatti alla guardia medica e gli ambulatori in campo dal primo gennaio abbiamo appena letto nella prima pagina c'è il rischio di uno stop questo servizio resteranno prive del servizio centrato anche a maniago e a spilimbergo lo studio però vi è una alternativa che andrebbe a coinvolgere proprio i medici di medicina generale la film dice allungando la reperibilità si potrebbero evitare eventuali disagi i nodi dice la nota dei dottori che non si trovano e ancora tanti residenti nei centri montani costretti a distanze e tempi troppo lunghi soprattutto quando poi si registrano delle difficoltà legate alla salute il suggerimento arriva pure da italia viva che ricorda il territorio non resterebbe sguarnito lo fa l'alto adige si sperimenti anche qui vedremo insomma come si chiuderà questo argomento meno imprenditori sotto i 30 anni in controtendenza agli stranieri questo è un dato che emerge nel documento unico di programmazione a crescere sono soprattutto gli extra comunitari per tecnologia agricoltura e servizi per l'impresa abbiamo questo trend leggiamo positivo il commercio che però perde ben 53 aziende ci sono vandalismi adolescenti scatenati sempre a pordenone atti vandalici arrivano le proteste da parte di chi vi abita dei residenti soprattutto di via peglia via latinia via pontinia e ancora un'interrogazione della consigliera del ben del pd suggerito anche un potenziamento delle politiche giovanili segnalati anche episodi di spazio ma dai controlli non emerge nulla la consigliera scrivono più video sorveglianza e lo perfido ragazzi costretti a casa dalla pandemia palesano disagi quindi vanno a ricondurre un aumento degli atti vandalici soprattutto tra gli adolescenti dovuti un po anche al fatto appunto che siano a casa solido il fisco agli operai pena scontata a pordenone abbiamo la sentenza un imprenditore della zona industriale di ponte rosso riconosciuta l'attenuante d'aver agito per ragioni sociali il caso della romani srl stato portato in cassazione sentenza poi annullate un nuovo pronunciamento anche in appello andiamo un po anche nei vari comuni partendo da sacile vaccini attesa sotto la pioggia il freddo abbiamo la denuncia all'ex consigliera casadio che scrive al prefetto per segnalare questi disagi che abbiamo appena letto soprattutto gli anziani con problemi di salute che sono a rischio appunto di ammalarsi don luigi festeggia i 60 anni e sacerdozio con un libro di ricordi ieri fontana fredda san giorgio ringraziamento della comunità dove è stato parroco per 35 anni abbiamo avuto una cerimonia solenne bruniera invece ringrazia il mondo dello sport del volontariato quindi ancora che è stato l'evento nella ricorrenza dell'immacolata che l'amministrazione comunale ha programmato al palazzetto dello sport di via dalmas oggi pubblicato dal gazzettino vediamo insieme la campionessa katia are che è stata la madrina poi di questa festa dello sport e del volontariato che appunto era presente all'evento andiamo invece con la cronaca è grave un giovane stiamo parlando di un 27enne che sbanda finisce in un fossato l'incidente è avvenuto ieri mattina alle 5 e 30 la macchina è finita contro una spalletta di cemento a cordignano il giovane stava rientrando a caneva a cordignano però come riferito per causa in corso d'accertamento il giovane 27enne ha perso il controllo della sua auto che si è scantata a bordo strada si tratta di una bmw che è finita contro la spalletta di cemento di un accesso ad un'abitazione sul posto operatori sanitari vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario estratto dalle lamiere il ragazzo che è stato ricoverato all'ospedale ancora pagina accanto si parla invece a maniago dei coltellinai il fatturato si dice raddoppiato anche quest'anno il consorzio maniagese consolida questo trend che cresce dal 2018 punta di diamante anche il marco maniago knife maker nato proprio da un'impresa leicata soprattutto al rilancio abbiamo le ultime due pagine daiezioni abbandonate nel parco riservato ai cani siamo a cordenons come in altri punti della città l'inciviltà regna pure nello sgambatoio di via goetta alcuni proprietari di animali non raccolgono neppure i giocattoli rotti lasciandoli nell'erba e ancora invece a zano i pacchi della spesa aiutano ben 66 famiglie con il covid l'emergenza è aumentata la rete solidare che va verso 200 persone a dare sostegno centro alimentare fondamentale assieme proprio al lavoro della san vincenzo vediamo se abbiamo ancora una pagina si era quella legata scusate a san vito al tagliamento dove si legge post traumi la palestra cresce grazie alla soms in un progetto della cooperativa futura che è nato ancora due anni fa bloccato dalla pandemia ha ripreso finalmente il suo percorso allora vediamo pure la foto perché prosegue questo allestimento della palestra futura che si trova in via pesco pagano sempre a san vito al tagliamento con questo allora abbiamo completato visto un po anche le principali notizie legate pure alla provincia di pordenone e città grazie per averci seguito e rassegna stampa tutti i giorni tornerà puntuale anche domani 6 30 del mattino e poi diamo un saluto invece chi ha deciso e ci ha seguito durante la replica quella che parte puntuale alle 8 e mezza del mattino poco più tardi salutiamo e ringraziamo tiziano campigotto che si è occupato invece della parte tecnica in regia e tutti voi che ci avete così anche inviato un messaggio facendosi sapere proprio le vostre considerazioni rispetto agli argomenti che abbiamo visto insieme tanti gli aggiornamenti rispetto alle piogge abbondanti nevicate quindi la situazione meteo che continueremo a monitorare e poi ancora tanti saluti e buongiorno che ancora sono giunti in redazione grazie non mi resta che dare appuntamento alla prossima